Manca una settimana alla festa patronale di Barletta, meglio conosciuta come festa della Madonna, appuntamento atteso e fortemente sentito dall'intera comunità non solo di fedeli. Tre giorni di celebrazioni, sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 luglio in onore della Madonna dello Sterpeto e di San Ruggero Vescovo, i due santi patroni della città. Come da tradizione, Barletta si veste a festa con luminari e bancarelle, offrendo anche tanti momenti di intrattenimento come il concerto di Orietta Berti in programma il 15 luglio in piazza Aldomoro. Martedì prossimo l'arrivo in cattedrale della sacra icona della Madonna dello Sterpeto e del busto di San Ruggero darà il via al programma delle celebrazioni che culminerà domenica 15 luglio nella processione dei santi patroni, che percorrerà le vie del centro cittadino presieduta dal Vescovo d'Ascenso ed accompagnata dalle autorità civili e militari del territorio. L'invito che io faccio è di rimanere a Barletta, di vivere questo momento di festa in onore dei nostri santi patroni, della Beata Vergine Maria, di San Ruggero, ma anche far riflettere nelle nostre vite, nelle nostre persone, nel nostro mondo, la gioia, la pace che loro ci ispirano. Anche quest'anno ha profuso il massimo impegno da parte del Comitato Feste Patronali per ravvivare una tradizione antica e dal forte valore identitario. Abbiamo preparato una festa sobria, ma sicuramente bella. Abbiamo ripetuto e ripeteremo con più folclorismo, più bellezza, diciamo, le illuminari musicali che per la prima volta l'anno scorso abbiamo installato in corso Vittorio Emanuele, che accompagneranno i nostri santi patroni dopo l'ultima sosta vicino Palazzo di Città, fin verso Via Nazareth, che crea un momento di emozione e soprattutto di emozione da parte dei tanti fedeli che sono presenti lì. Poi abbiamo un evento musicale, che è l'unico, ricordiamo, gratuito, in Piazza Moro il giorno 15 all'ora 21, con un'artista in questo momento molto amata, che è Orietta Berti, che già l'anno scorso avremmo voluto e che quest'anno abbiamo con molta, diciamo, dal punto di vista anche del costo, però va la pena. E per questo invitiamo tutti i nostri concittadini a vivere questo momento, che è un momento di festa, ma è soprattutto un momento anche per rinsaldare la nostra fede verso i nostri santi patroni che a Barletta è venuta, c'è sempre stata.